La pittura di Vidà si esprime attraverso una personale ed elaborata ricerca artistica, incentrata prevalentemente sul tema del colore, ed è proprio il colore l'aspetto predominante non solo nelle opere di Vidà ma in tutto il suo percorso artistico. Partendo da un'antica tecnica pittorica, l'artista è riuscito nel corso degli anni a ottenere una vastissima gamma di colori, realizzati macinando diversi elementi reperiti in natura, come pigmenti, terre colorate e minerali. Ed è proprio grazie alla sviscerata passione per la natura che Vidà ha riuscito a scoprire una particolare sostanza organica che, miscelata alle polvere di minerali, riesce a estrapolare il colore così com'è in natura. Attraverso l'utilizzo di questa particolare tecnica, Vidà riesce a far emergere dal colore una luminosità straordinaria e una luce fino ad ora sconosciuta. Ma per comprendere a fondo il lavoro e le opere di Vidà, l'artista ci apre le porte del suo studio per mostrarci il vero potere del colore.